E dico questo, Presidente, perché io vengo qui dalla periferia dell'Italia a mani nude e a mani vuote, così come il Governo Conte, a me e a tanti altri sindaci, ci ha lasciati soli a combattere l'emergenza coronavirus. A mani nude e a mani vuote, da uomo del Sud, Presidente, da uomo del Sud.